L'estate salernitana sta facendo registrare numeri da record sul fronte turistico. Da mesi infatti il trend è tornato ai livelli della fase pre-covid, garantendo una boccata d'ossigeno all'intero indotto, segnali di crescita importanti che, secondo il presidente del Consiglio Comunale Dario Loffredo, vanno analizzati anche dal punto di vista amministrativo. Per il già assessore al commercio, infatti, a Salerno è necessario potenziare l'offerta alberghiera, in modo da garantire più servizi ai turisti che arrivano in città. Salerno è una città di 130-135 mila abitanti. Ci vorrebbe un fabbisogno di oltre 4.000-4.500 posti letto, siamo alla metà. Quindi se noi non lavoriamo in questo senso, creando delle strutture ricettive, dei grandi alberghi, noi non riusciremo a soddisfare le esigenze. È evidente che ci sono tante persone. Anche il turismo che sta qui e poi gira per la nostra magnifica provincia, che ben venga. Sta Salerno, va Pompei, noi non siamo gelosi delle nostre bellissime coste, però devono poter pernottare in città perché è importante e fondamentale. L'idea di Loffredo è di mettere a bando delle aree dedicate proprio al settore turistico ricettivo, in modo da incentivare le imprenditorie a privata ad investire nella città di Salerno. Noi dovremmo lavorare da questo punto di vista per incentivare gli imprenditori privati ad investire nella città con degli alberghi altezza della situazione.